Long play della Homebrew per Sega Mega Drive, Bomb on Basic City Special Eddiction. Questo è un gioco della serie di Papi Commando ed è ispirato a Bomb on Pixel City. È la riproposizione di un classico. Io da piccolo ho visto un gioco simile su Commodore 16. Praticamente noi siamo a bordo di un aereo che viaggia sempre da sinistra verso destra e può sganciare un numero limitato di bombe ad ogni passaggio, normalmente due. Poi ci sono dei power up come per esempio la possibilità di lanciarne tre, oppure la bomba che sfonda tutto, arriva fino in fondo e crea una mega esplosione o anche la possibilità di riprendere quota. Sì, riprendere quota perché se veniamo colpiti, o comunque continuando ad avanzare, piano piano perdiamo quota. e se perdendo quota ci schiantiamo contro degli elementi dello scenario, perdiamo la partita. Lo scopo è distruggere lo scenario. Ogni bomba ne rompe un pezzettino, ne distrugge un pezzettino. Possiamo anche colpire dei nemici che sono di vario tipo, possono essere uomini o anche mezzi o installazioni militari. Il gioco dispone di una mappa e i vari schemi hanno ambientazioni che spaziano da classiche palazzine, alberi o campi militari alternate a ambientazioni un pochino più pazzoidi come dei grossi Super Nintendo o altri sistemi di videogiochi di un tempo. Il gioco dispone anche di modalità aggiuntive e scaricandolo ci viene fornita anche la demo di Papi Commando Tennis. Io ho realizzato il long play completo e posso dire che tecnicamente è un gioco che se la cava abbastanza bene. Buono il sonoro e grafica discreta. In descrizione trovate il link per scaricarlo. Un like, un'iscrizione al mio canale e la condivisione di questo video supporteranno il mio lavoro. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!